Non vedo una sfida nella sostenibilità, io vedo un'enorme opportunità. Questo è quello che B&T vuole fare, creare un futuro migliore di innovazione sostenibile. Quindi di un'innovazione che aiuti a creare un futuro, che sia un futuro più equo, più verde e anche un futuro in cui si aiuta il benessere sociale e dei nostri consumatori, insieme a quello degli nostri stakeholder. Quindi non è una sfida, per me è un'enorme opportunità che B&T sta accogliendo.